Buonasera a tutti, un saluto speciale a tutti voi e soprattutto al presidente Mauro Ascione della Banca di Credito Popolare. Noi in relazione alla consegna delle borracci abbiamo pensato di valorizzare questa iniziativa proponendo appunto questo concorso interno che si chiama TITVB, cioè quindi parafrasando la celebre frase TITV ti voglio bene, quindi per fare in modo che i ragazzi ponessero attenzione, una maggiore attenzione nei confronti di questa risorsa, cioè la risorsa acqua che quindi